Musica Biotea è il mondo dello skin care nel marchio ombrello Pet & On. Come nasce il marchio Biotea e soprattutto da quali esigenze ci si inserisce nel mondo dello skin care? Biotea nasce all'interno del gruppo Pet & On come una realtà completamente sui generis legata appunto al mondo dello skin care. All'interno di una struttura tradizionalmente legata al mondo del professional hair care si è sentita l'esigenza di offrire a clienti in Italia e anche a livello internazionale una serie di prodotti legati alla cura del corpo, alla cura della bellezza, in particolar modo quella femminile. E di qui è nata l'idea del nome Biotea che letteralmente è legata alla parola vita di origine greca quindi bio e l'abbiamo unita alla parola Thea che significa due cose, significa divinità quindi una dea ma anche una visione, una vista di bellezza naturale. La filosofia di Biotea è offrire dei prodotti completamente ad impatto e ad impronta naturale con formulazioni di eccellenza che derivano esattamente dalla professionalità, dall'esperienza. E ancora di più una parola che ci piace tantissimo in Pet & On che è passione da parte di imprenditori ed esperti non solo commerciali ma anche e soprattutto di ricerca e sviluppo, di studio formulativo e anche di marketing naturalmente. Quali le famiglie di prodotto presenti all'interno del mondo Biotea? In Biotea Skin Care abbiamo tre gambe di prodotto, una dedicata al viso, una dedicata al corpo e l'altra dedicata all'epilazione. Abbiamo costantemente incrementato le famiglie di prodotto all'interno delle gambe e abbiamo sempre cercato di farlo guardando all'esigenza vera della donna. Correggere i segni del tempo è un'esigenza sentita da tutte noi, motivo per il quale la linea Anti-Age Intensive di Biotea Skin Care è particolarmente apprezzata. È a base di acido ialuronico ad alto peso molecolare e serve proprio a contrastare i segni del tempo. Cito senz'altro un'altra linea di grande successo dedicata al corpo che si chiama Lipotrap ed è un trattamento shock mirato alla riduzione dell'adipe localizzata in zone critiche del corpo e alla riduzione della cellulite. Un'altra nuova scoperta all'interno del mondo biotea è quella dedicata alla cera nera brasiliana. Grazie alla sua applicazione e al strappo morbido riusciamo a garantire un'epilazione efficace senza il dolore provato con le cere più tradizionali. L'importanza nell'utilizzo di cosmetici naturali all'interno del segmento estetico è fondamentale per garantire un risultato importante e soprattutto altamente tollerato da tutte le pelli. Chiaramente utilizziamo tutti i principi attivi che vengono forniti dalla natura e utilizziamo una formulazione estremamente particolare priva di parabeni, paraffine, OGM e SLES e sottoponiamo ogni lotto di produzione al nickel test per garantire un'altissima tollerabilità cutanea del nostro cosmetico. Per garantire un risultato con i nostri protocolli d'uso abbiamo strutturato un book completo dove andiamo a suggerire alle nostre clienti uno step by step ordinato di tutti i cosmetici che vengono utilizzati. La manualità è fondamentale per far sì che i principi attivi possano essere assorbiti dalla pelle nelle tempistiche giuste. Le novità che presentiamo al Cosmoprof riguardano una nuova piccola linea dedicata alle mani, si chiama End Spa ed è composta da tre piccoli prodotti senz'altro molto utili, sono prodotti professionali però che possono essere usati anche a casa e quindi anche dalla consumatrice finale. Vista l'importanza della linea Lipotrap dedicata alla cellulite e all'adipe localizzato abbiamo inserito un nuovo prodotto, un prodotto in gel dedicato alle gambe e particolarmente funzionale per drenare i liquidi in eccesso della gamba. Abbiamo in sviluppo una linea che si occupa di detergere, di proteggere e di rigenerare la pelle particolarmente stressata. Per quanto riguarda invece la linea Food Spa abbiamo inserito un nuovo prodotto che è quella dedicata ai piedi, è una mousse quindi un prodotto a rapido assorbimento fatto per tutte le donne che hanno magari poco tempo e hanno il desiderio di sentire il piede molto asciutto. L'orientamento di Biotè è senz'altro concentrato nel produrre prodotti professionali che ascoltino sempre di più le donne, quindi vogliamo costantemente proporre delle soluzioni a dei bisogni molto sentiti. L'orientamento che vogliamo dare alla bellezza è senz'altro produrre prodotti professionali che abbiano affidabilità, professionalità e risultato. Biotè per il mondo dello skin care è? Senz'altro professionalità, naturalità e affidabilità. Biotè per il mondo di Biotè. Biotè per il mondo di Biotè. Biotè per il mondo di Biotè.